Ospite di Che Tempo Che Fa, la bella Loredana Bertè, la straordinaria cantante italiana, durante la sua esibizione pensate che avrebbe commesso una caduta piuttosto palese. L'incidente si sarebbe esibito mentre si stava esibendo nel palco del programma di Fabio Fassio in playback. Tutto sarebbe successo in maniera improvvisa, tanto che gli stessi musicisti e il conduttore ci avrebbero impiegato un po' di tempo per capire effettivamente che cosa era accaduto. La bella artista pensate che avrebbe, diciamo così, provato dolore, ovviamente, ma sarebbe stato piuttosto particolare il momento in cui si sarebbe rialzata. C'è qualcuno che è maguffato a casa, avrebbe detto, dopo vi ho rotto le scatole per tutta l'estate, ho anche la bronchia dell'influenza, porca puttana, ah non si poteva dire, siamo in diretta. Insomma, ci sarebbe stata anche questa simpatica parolaccia che sarebbe fuoriuscita dalla bocca simpatica di Loredana Bertè nel momento in cui si è dovuto rialzare da quella rovinosa caduta che purtroppo si sarebbe verificata a che tempo che fa, condotto dal buon Fabio Fassio. E il video termina qua, che agli utenti di YouTube, datemi prova di un vostro parere, e datemi una vostra opinione in calcio a questo video di oggi, primo ottobre 2018. Grazie ancora a voi tutti e al prossimo video da Narratore Italiano.